Sono Giovanni Marazzini dell'azienda Rede, l'azienda nata nel 1938 dal mio prozio che l'ha fondata qui a Paraviago, siamo qua a Paraviago ancora nello stabile dove l'azienda è nata di fatto e che si è allargato poi col tempo. Paraviago è un paese dove quasi tutte le aziende producono scarpe e noi siamo l'unica realtà a produrre calze. Nonostante questo abbiamo mantenuto l'artigianalità e la produzione sempre in Italia sin dalla nascita dell'azienda fino ai giorni nostri. L'azienda si è evoluta nel tempo, è partita con la produzione di calze da uomo ed è passata poi la produzione anche delle calze da donna ed è colla da donna. Attualmente produciamo calze da uomo, donna e bambino con i marchi di proprietà Rede e Red e abbiamo una distribuzione in Italia per il marchio Calvin per quanto riguarda le calze da uomo e da donna. Che cosa vuol dire produrre in Italia? Abbiamo sempre mantenuto la produzione in Italia, facciamo un made in Italy cosiddetto al 100%. Questo perché produrre in Italia significa fare qualità, avere i fornitori e la filiera vicino e avere un personale molto attento e un know-how che si tramanda di generazione in generazione. Ovviamente abbiamo investito in macchinari, abbiamo macchinari di ultima generazione, tra l'altro italiani e utilizziamo filati e fornitori italiani anche nella filiera a monte e a valle della nostra azienda. Grazie a tutti! Produciamo in Italia sin dall'inizio perché ci abbiamo creduto e per una scelta nostra quando in epoche in cui la maggior parte dei nostri competitor cercavano delle produzioni estere a minore costo noi siamo sempre rimasti fedeli al nostro sito produttivo, alla realtà in cui siamo, ai collegamenti che abbiamo qui in Italia con i nostri fornitori. Siamo fieri di aver tenuto fede alla nostra filosofia che prima di tutto è una filosofia. Produrre bene, produrre artigianale, produrre italiano. L'azienda è in forte crescita, la campagna vendita dei nostri marchi si è chiusa per quanto riguarda l'ottuno-inverno con una crescita rispetto all'anno precedente, double digit, intorno al 20%. Crescita specialmente nel mercato italiano, in quanto facciamo l'80% del nostro fatturato in Italia. Ovviamente l'estero è una componente importante, attualmente ci stiamo distribuendo nei principali department store di fascia alta con i nostri prodotti. Siamo presenti a Galerie Lafayette, al Corte Inglese, a Globus e particolarmente siamo fieri di essere presenti nel mercato giapponese che è molto attento ai prodotti di nicchia. In Italia arriveremo circa quest'anno con l'invernale ad avere 500 clienti in multimarca, nonché nei principali department store, nelle grandi superfici al dettaglio di livello, come coin rinascente Sorella Ramonda. Nel 2010 abbiamo fondato un nuovo marchio, si chiama Red Socks Appeal. L'idea era, ed è, quella di entrare nella fascia più alta del mercato, per poter proporre al mercato una collezione più fashion. I prodotti principali che caratterizzano marchio Red sono la calza rossa, che possa aiutare a distinguere l'uomo e la donna, però senza avere una visibilità eccessiva, per cui anche in ufficio provare a osare con qualcosa di diverso. L'altro prodotto icona della collezione Red è la calza Peasley, riproposto in chiama moderna, anche quello con colori molto interessanti e particolari. Quindi il nostro cliente è un cliente che ama distingersi, il cosiddetto gentleman moderno. La calza è un accessorio che permette di fare questo e con Red, indubbiamente, il nostro cliente può trovare una soluzione che gli conferisca quella personalità che vuole, anche nei momenti più formali della giornata. Grazie! 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 Grazie!